Si è chiusa nel tardo pomeriggio una lunga udienza, l'ultima. Sul caso Coingas oggi dovevano terminare le arringhe delle tifese ed infatti è stato così. La sentenza sarà il 28 febbraio. La procura ha inciampato sul sindaco, ha detto in aula il difensore del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, con lui a processo ci sono altri 10 imputati. L'impressione è che la procura abbia inciampato sul sindaco nello svolgimento delle sue indagini, ha detto in aula Piero Melani Graverini, difensore di Ghinelli, che ha raccolto il testimone di Luca Fanfani. Certo è che se si inciampa sul sindaco, ha detto, il processo prende un'altra luce. Graverini ha poi chiesto l'assoluzione per tutti e tre i capi di imputazione. Assoluzione perché il fatto non sussiste, anche questa la richiesta avanzata dai legali dell'assessore Alberto Merelli e anche i legali dei tre imputati del filone Multiservizi si sono espressi, chiedendo l'assoluzione per Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, Luca Amendola, ex presidente di Arezzo Multiservizi e Roberto Bardelli, consigliere comunale. Chiesta l'assoluzione da parte dei difensori anche per Franco Scortecci, attuale presidente di Coingas, Mara Cacioli, ex dipendente, e per l'avvocato Stefano Pasquini. Il 28 febbraio la procura dunque potrà pronunciare le sue repliche e poi la lettura dell'attesa sentenza.